Grande soddisfazione del Comitato Renzi per il grande risultato ottenuto da queste primarie dell'8 dicembre di Senigallia che testimonino che il Partito Democratico è l'unico riferimento per il cambiamento di questo Paese, soprattutto avviene questa legittimazione di Matteo Renzi che con una grandissima affermazione popolare un candidato che darà quella forza per il cambiamento ma soprattutto risolverà, ci auguriamo, quei problemi che conosce molto bene e che con le sue soluzioni si risolveranno. Un ringraziamento a tutti i cittadini che hanno partecipato a questo importante appuntamento democratico e che hanno testimoniato quanto siano importanti le primarie per la scelta di un candidato ma soprattutto la scelta anche di proposte per risolvere e soprattutto per ridare con forza un partito Ebb.